Francesco Prina del Partito Democratico e segretario della quinta commissione Commissione Territorio che si occupa dei trasporti e della mobilità. Abbiamo appena approvato una legge sulla mobilità e trasporti, ma la Regione Lombardia ha un recupero da effettuare rispetto a questo tema, che è un tema bistrattato soprattutto per quanto riguarda il ferro, cioè abbiamo dei treni e di un sistema ferroviario di trasporto pubblico locale estremamente arretrato. La Regione Lombardia ha bisogno di investimenti per permettere a studenti e lavoratori di raggiungere i posti di lavoro e quindi anche della scuola della formazione come i loro colleghi europei.